Buongiorno assistenti di Oggi e Domani, oggi parliamo di Problem Solving. Io sono Irene Linguari e questa è assistente dall'Ala Z, un mondo di contenuti riservato alla professione dell'assistente di direzione e delle sue specializzazioni, Executive Assistant, Office Manager e Personal Assistant. Oggi parliamo di Problem Solving. Se avete già visto il nostro video, trovate riferimenti sotto, l'assistente di direzione prima di risolvere i problemi e fa in modo che non si verifichino. Fa in modo cioè che tutta una serie di situazioni si svolgano nel modo più sereno, efficace e produttivo possibile. Ma come ci faceva notare in un commento Donatella Mucciato, tante volte i problemi si verificano non perché l'assistente fa qualche errore, ma si verificano perché è causato da tutta una serie di altre persone o per tutta un'altra serie di motivi. Ma cosa bisogna fare quando si verifica un problema? Si deve agire secondo questa modalità da Problem Solver. Il Problem Solver è un'espressione un pochino abusata, ma l'assistente fa questo fondamentalmente di lavoro. Fa in modo di risolvere i problemi. Prima di tutto evita che si verifichino e poi fa in modo di risolverli. Ma allora cosa si fa quando davvero si verifica un problema? Bisogna dedicare un pochino di tempo a identificare davvero il problema, quindi domandandoci stiamo analizzando, stiamo affrontando il problema giusto. Secondo elemento, dobbiamo dedicare quel tempo che serve ad analizzarlo, a capire davvero le dinamiche e a prendere la migliore decisione. Spesso il Problem Solving è legato un po' al decision making, quindi alla capacità di prendere decisioni. Ma soprattutto quello che bisogna fare ed è importantissimo, bisogna agire. Il problema va risolto e fino a qui le fasi sembrano abbastanza lineari. Ma cos'è che bisogna tastativamente non fare quando si verifica un problema? Bisogna tastativamente evitare di lamentarsi, perché la lamentela è una delle cause per cui molti problemi non si risolvono e soprattutto gli stessi problemi si verificano tante volte. Perché questo? Perché la lamentela mangia moltissima energia e moltissimo tempo. Quando c'è un problema, la cosa che dobbiamo fare è concentrare le risorse più scarse, il tempo, l'energia e la nostra concentrazione, proprio a vedere di risolvere il problema. Quindi come elemento fondamentale dobbiamo tenere presente, cari assistenti, che non ci si lamenta. Quindi anche tu, se hai la tentazione di lamentarti perché c'è un problema da risolvere, non farlo e soprattutto non lamentarti di un problema con il tuo assistito. Perché non è proprio il caso. Certo, puoi informarlo di una determinata situazione, di una determinata situazione. Quindi puoi renderlo dotto che c'è una particolare realtà che ha bisogno di tutta la nostra attenzione. Ma non ci si rivolge al proprio assistito dicendo che c'è un problema o che c'è un ennesimo problema o che puffo e rbacco, ci sono dei problemi e li devo sempre gestire io. Questo non si fa. E tra l'altro è bene informarlo proprio rilevando una determinata situazione. Non si parla neanche di problema. Perché? Perché le signore per bene, ragazzi a modo, la parola problema non dovrebbero neanche con tanto agio pronunciarla in pubblico. È un'espressione che dovrebbero evitare. Allora che cosa dobbiamo fare? Informiamo della situazione e poi ci concentriamo a risolvere il problema. Risolto il problema possiamo andare ad analizzare che cosa è successo e cercare di parlarne a quel punto anche con il nostro assistito. Perché non possiamo chiedere soluzioni. Noi possiamo far presente delle soluzioni e proporre delle alternative che possono in futuro evitare la verificarsi di nuovo di questo problema oppure di un problema simile, dandoci la possibilità così di risolvere dei problemi sempre nuovi. A quel punto possiamo utilizzare la famosissima frase che io pronuncio miliardi di volte al giorno, te l'avevo detto. Perché può capitare che l'assistente davvero l'abbia detto. Anche tu probabilmente avrai detto questa frase perché veramente avevi detto prima che una certa situazione era rischio. Questo succede anche a me. Con un bel te l'avevo detto. Ma il te l'avevo detto, questo briciolo di soddisfazione va davvero centellinato. Quindi va utilizzato quando serve. La cosa importante è condividere quei punti di attenzione che servono per evitare che una situazione del genere si verifichi ancora. Per evitare di essere ancora nei guai. A quel punto possiamo confrontarci. Quindi a quel punto possiamo sempre in maniera costruttiva andare ad analizzare quali sono gli aspetti da tenere presenti per evitare di ritrovarci di nuovo in una situazione spiacevole, complicata, rischiosa oppure effettivamente pericolosa. Ma allora cosa dobbiamo fare fondamentalmente? Che cosa dobbiamo tenere a mente? Come primo elemento del problem solving che un vero problem solver non si lamenta mai. Non si lamenta di esserlo e non si lamenta del problema. Per cui come primo aspetto facciamo questo piccolo fioretto. Impegniamoci di fronte a ogni problema piccolo grande a evitare la lamentera e soprattutto evitare la lamentera verso il nostro assistito. Quindi quando sei in questa situazione concentrati sulle soluzioni. Analizza il problema ma non lamentarti di essere in quella situazione o dover essere tu a doverla risolvere. Puoi sfogarti sì in una maniera assolutamente moderata in un ambiente consono con persone di fiducia. Non sicuramente sui social network ma in generale puoi avere diritto a un momento di sfogo. Ma sicuramente il momento di sfogo non può essere nel bel mezzo di un problema e andando a brodolare al tuo capo tutta una serie di cose che assolutamente non vanno. Perché non è la situazione? Quindi primo elemento la mente la no. Poi i problemi che si risolveranno con molta meno fatica perché la mente non ha caratteristica. Dicevamo mangia il tempo e mangia un sacco di energie. La soluzione è l'azione. Se pensi che questo contenuto sia interessante e se l'hai trovato utile puoi lasciare un like oppure condividerlo con le persone che pensi possano a loro volta trovarlo interessante. Se vuoi rimanere aggiornato o aggiornata sui nostri contenuti puoi iscriverti al canale youtube cliccando sulla campanella per rimanere aggiornato per ogni nuovo contenuto oppure scegliere di seguirci sulla nostra pagina linkedin. Sotto puoi lasciarmi nei commenti le tue domande oppure puoi scriverli privatamente. Se vuoi avere maggiori informazioni sul nostro percorso formativo che include anche un modulo tutto dedicato al problem solving puoi scrivermi una mail a corsi chiocciola assistente dalla a alla z punto com così da poter avere accesso al nostro programma formativo completo. Allora che ne dici siamo d'accordo? L'assistente problem solver sì lamentela no. Perfetto grazie mille. A presto.